È un momento davvero un po' spinoso sia per la Roma che per la Lazio, iniziamo dai giallorossi che hanno infilato il loro quarto pareggio consecutivo. È una situazione che va un po' ad annacquare il grande avvio sotto tutti i punti di vista perché la Roma segna meno, perché la Roma vince meno, però è una situazione che è figlia soprattutto della grande emergenza a livello di infortuni che sta colpendo la formazione di Fonseca. Di conseguenza in questo momento mi risulta molto difficile dare dei giudizi, però i giudizi ridà il campo e la Roma nel weekend avrà un'altra chiamata molto pesante in campionato contro il Milan. Direi che quello che è successo ieri sera non migliora più di tanto le cose, perché la Roma è una partita molto complicata. Il Borussia Mönchengladbach è un avversario di livello, anche le condizioni climatiche e la grande pioggia dell'Olimpico non hanno sicuramente aiutato. La Roma ha fatto anche fatica, ha subito delle occasioni, è stata messa in difficoltà dal Borussia Mönchengladbach e non ci si poteva aspettare niente di diverso, per cui dal punto di vista della prestazione i tedeschi hanno in qualche modo meritato il risultato, però poi la partita era andata via su episodi che l'avevano praticamente consegnata alla Roma, una Roma che era riuscita ad assorbire il colpo iniziale, a mettersi all'interno del match, anche ad andare in vantaggio con un gol significativo anche a livello individuale, perché il gol lo ha realizzato Zaniolo con un colpo di testa, bello, sugli sviluppi di corner. Zaniolo ha vissuto dei giorni un filo tesi, perché si è scatenato una sorta di polemica attorno a lui, su questo non entro, perché ognuno ha le proprie opinioni e secondo me ci sta, che un ragazzo così giovane, ma soprattutto così talentuoso e così importante, venga sempre richiamato ad una condotta esemplare, questo però è qualcosa che esula dal campo e noi, lo sapete, ci concentriamo sempre lì. Il gol di Zaniolo è importante perché lo stavo inseguendo da un po', in Europa League aveva già segnato, in campionato invece la rete gli resiste un pochino, è un gol importante anche per come è stato fatto. Colpo di testa su calcio d'angolo andando sul primo palo, lì di solito ci va Cristante e quest'anno ha già fatturato con questo tipo di situazione, Cristante che è l'ultimo dei grandi e gravi infortunati della Roma, Fonseca è riuscito a rigirare la situazione sulle palle inattive, mandando lì Zaniolo che ha questo tipo di colpi, lui è sicuramente un giocatore di fantasia, un giocatore di strappo atletico, un giocatore di costruzione, ma ha anche la forza per essere un giocatore decisivo all'interno dell'area di rigore e lo ha fatto con un bellissimo colpo di testa su calcio d'angolo, per cui questa è una situazione importante per Zaniolo, è una situazione che spero lo possa sbloccare nel modo giusto per permettergli di prendere continuità. L'altra situazione di campo importante presentata dalla Roma è stata la scelta di inventarsi mancini come mediano, era chiaro che Fonseca avrebbe dovuto tirare fuori qualcosa dal cilindro, o un cambio di sistema di gioco e si era capito che non lo stava pensando più di tanto, perché è giusto insistere sulla costruzione di una filosofia, la costruzione di un'organizzazione stabile. Doveva inventarsi un mediano per le indisponibilità in serie. Si pensava più a Fazio che in passato lo ha anche fatto, invece l'idea di Mancini si è rivelata efficace, lo stesso Fonseca si è complimentato molto dopo la partita, ha giocato una gara gagliarda all'ex difensore dell'Atalanta, che come ha detto il suo allenatore è un combattente lì in mezzo al campo, è riuscito a trovare la propria dimensione, ha fatto una prestazione positiva, potrebbe essere confermato contro il Milan, è chiaro che è un qualcosa dettato dall'estrema emergenza, non vedo uno sviluppo di Mancini in mediana, però per quelle che sono le sue caratteristiche, anche per quella che è stata la sua breve ma significativa storia, l'anno scorso all'Atalanta dei tre centrali era quello che partiva, quello che partecipava di più alla costruzione dell'azione, forse davvero in quella zona del campo in questo momento è l'esperimento meno ardito di tutti. Abbiamo fatto tutti dei discorsi, poi però la partita è stata segnata dall'incredibile calcio di rigore dato al Borussia Mönchengladbach all'ultimo minuto, e lo sapete, sugli episodi io tendo sempre piuttosto a sorvolare, in questi casi è impossibile perché è un episodio che ha segnato la partita e ha segnato anche il volto del girone, un errore clamoroso da parte dell'arbitro scozzese Collum, un errore che la Roma fa fatica a digerire, si capisce, facciamo fatica a digerirlo tutti per un motivo, è piena la storia del calcio di partite e anche di competizioni segnate da episodi del genere, però oggi è veramente inaccettabile che in una competizione come l'Europa League non ci sia il VAR, il VAR avrebbe fatto giustizia, il pallone ha colpito chiaramente Smalling sulla faccia e non sul braccio, il VAR entrerà in scena dalla fase di eliminazione diretta dell'Europa League, però ripeto che una competizione così importante, che una vetrina internazionale così importante porti ancora oggi, alla fine del 2019 con la tecnologia che abbiamo, questo tipo di situazioni è assolutamente un qualcosa fuori da ogni logica e fuori da ogni possibilità. Spero che non diventi una situazione decisiva poi per i conti finali del girone, perché allora a quel punto ci sarebbe veramente tanto, tanto, tanto spazio per recriminare. Spazio per recriminare ce l'ha anche la Lazio, però bisogna vedere contro chi deve recriminare, perché la Lazio al Celtic Park ha fatto una buonissima partita, l'aveva messa sui binari giusti andando a trovare il gol dell'1-0, tra l'altro un gol importante anche a livello individuale, discorso simile a quello che facevo per Zaniolo, per Manuel Lazzari che ha patito un po' questo salto in alto, ha avuto anche qualche problema fisico, Lazzari sta trovando la condizione e Lazzari si rivelerà, un acquisto molto importante per questa squadra, bel gol in contropiede, rifinito molto bene da Correa, chiuso con rabbia, con potenza, con capacità contundente dall'ex laterale della SPAL, poi la Lazio poteva anche chiuderla la partita, sfortunato il pallo di Correa, parate incredibili dell'eroe di Serata Foster, però la Lazio la partita neanche l'ha pareggiata come è successo alla Roma, l'ha persa e adesso la situazione del girone è particolarmente preoccupante. Un'altra rimonta subita dalla Lazio, come era già successo in questa competizione, la Lazio subisce un po' troppi gol, lo abbiamo visto sia in campionato che in Europa League, spesso sono frutto di errori individuali, è vero, Stracoscia ha delle responsabilità sull'1-1, la difesa in generale sul gol partita, arrivato da calcio d'angolo, perché non c'è marcatura nel profondo dell'area di rigore, e queste sono situazioni ai limiti del deprimente, perché non si possono fare errori del genere in partite così importanti. Ripeto, errori individuali, però c'è da fare anche qualche considerazione d'insieme sulla Lazio, che ha dei valori tecnici molto significativi. Li sta ruotando, sta cercando la miglior condizione di tutti, però la Lazio non si può accontentare di arrabbiarsi per delle buone prestazioni che non portano frutti. La Lazio è una squadra che deve fare risultati, perché ha una rosa di alto profilo, perché è una squadra costruita e soprattutto con i mezzi per stare in alto, quindi questo balbettio continuo, questa incostanza, comincia ad essere qualcosa su cui ragionare seriamente. L'Europa League è ancora recuperabile, deve essere nella testa della Lazio un obiettivo importante, adesso la situazione è complicata, per cui mi aspetto una reazione da parte di Bianco Celesti, mi aspetto che si trovi finalmente questa continuità all'interno di 90 minuti e partita dopo partita, perché altrimenti sarebbe un peccato non concretizzare in questa stagione delle cose che sono, lo ripeto, alla portata della Lazio, del suo allenatore, dei suoi giocatori e di tutta la società. È stato come al solito un giovedì sera pienissimo di cose, perché, come vi ripeto sempre, questa fase preliminare dell'Europa League è anche un po' confusionaria, ci porta anche un filino a divagare, però ci permette anche di vedere tantissimo calcio, e quando vedi tantissimo calcio, vedi tantissimi giocatori, vedi tantissime cose che possono interessare. Ve ne segnalo quattro su tutte, poi avremo modo di tornare nel corso di questa lunga fase a gironi, anche su altri scenari e su altri protagonisti. I quattro che vi voglio segnalare, parto dal gol bellissimo del Guachiro, Luis Diaz, nel pareggio fra Porto e Rangers. Il Porto non si è ancora messo in moto del tutto, secondo me è una squadra che ha veramente le potenzialità e i valori per poter essere una squadra molto forte in questa Europa League, però l'avvio di stagione, sia in campionato che in Europa, non ha portato continuità ai Dragoish, e anche questo pareggio con i Rangers è un pareggio un po' deludente, molto buono per gli scozzesi, molto meno per i portoghesi. In tutto ciò, ripeto, il gol di Luis Diaz è stato bellissimo, e questo è un giocatore per il quale spendo due parole volentieri. L'ho conosciuto nel junior di Baranchilla, nella sua scalata con la squadra colombiana, e immediatamente mi aveva catturato l'occhio, questo esterno sinistro d'attacco ma destro di piede, quindi giocatore perfetto per giocare a piedi invertito, che rientra, che ha soluzioni, che ha la palla molto tagliente dal vertice dell'area di rigore, e questa è una cosa che nel calcio di oggi fa la differenza, perché noi siamo abituati al vecchio adagio, il cross pericoloso è il cross che viene portato dalla linea di fondo. Nel calcio di oggi è diverso, il cross più pericoloso è quello portato dal vertice dell'area di rigore, perché oggi si marca al 99% a zona, e quindi quando il cross con il piede invertito viene effettuato da quella zona, crea la situazione più difficile possibile per i difensori da assorbire, perché gli interspazi sono giocoforza un po' più larghi, e gli incursori possono inserirsi per andare alla soluzione. Il Guachiro Diaz ha questo tipo di palla su cross, ma ha anche il tiro, e l'ho fatto vedere contro i Rangers, giocatore che vi consiglio di seguire. Io lo faccio già da tempo, perché ho l'impressione che possa diventare, non so se un crack di livello mondiale, ma sicuramente un giocatore che farà parlare molto di sé, anche a livello internazionale. Altra situazione da segnalare è finalmente una vittoria del Manchester United in campo esterno, il Manchester United è andato a vincere in casa del partizio in Belgrado, sorrisi, una vittoria che serve per il morale, una vittoria che però non cambia molte cose a livello di giudizio tecnico, perché non è stato un bel Manchester United, lo ha salvato Romero con diverse parate, lo ha lanciato alla vittoria un calcio di rigore realizzato da Marciala, ancora una volta difficoltà nel segnare sua azione per Red Devils di Solskjaer. Vediamo, il pareggio con Liverpool e questo successo hanno calmato un pochino la tempesta attorno al manager norvegese, ormai io continuo a rimanere convinto che il Manchester United sia una squadra con troppi pochi valori per poter essere un vero Manchester United. E parlando di inglesi, una vittoria un pochino con degli scossoni l'ha ottenuta l'Arsenal, però è una vittoria importante perché il clima intorno a Emery comincia ad essere teso, anzi continua ad essere teso, quando secondo me il progetto stilato da questo allenatore merita della fiducia, i giudizi li faremo alla fine della stagione, questa è una stagione importante per l'Arsenal, però la crescita portata da una Emery è sotto gli occhi di tutti e comincia a entrare in circolo anche l'acquisto principale dell'estate, quello che fin qui era stata una delusione, perché è servita la doppietta di Pepe su calcio di punizione per rivaltare definitivamente il Vittoria Ghimaraes e dare il successo ai Gunners, due piazzati mancini perfetti negli ultimi dieci minuti, Pepe è uno che ha vissuto un'estate un po' strano, un'estate un po' pesante a livello di attenzione mediatica per un ragazzo giovane, un ragazzo abituato a un altro tipo di riflettori, però anche in questo caso sono convinto che stiamo parlando di un giocatore che riuscirà a confermare le attese, riuscirà ad essere un protagonista della stagione. Chiudo con un'altra doppietta, una doppietta che mi fa particolarmente piacere, quella del Mudo Vasquez in Siviglia-Dudelange 3-0, il Mudo Vasquez quest'estate è stato messo di fronte al fatto che non sarebbe stato un titolare importante nel nuovo progetto di Monci e Lopeteghi a Siviglia, è stato anche accostato a qualche situazione di mercato, lui ha sempre lavorato a testa bassa, senza parlare il modo, ma facendo capire che non aveva alcuna intenzione di spostarsi, ha accettato anche un impiego a singhiozzo e quando sta giocando il Mudo Vasquez sta rendendo per il giocatore di grandissimo valore tecnico che è, per cui doppietta bella la sua, doppietta da associare al gol di Munir per un altro 3-0 del Siviglia in Europa League e per un'altra dose di spettacolo che questa competizione ci riserva sempre. Ho fatto un commento volentieri sull'Europa League, sperando la prossima volta di parlare di risultati anche migliori per le squadre italiane, ma oggi è venerdì, quindi ci avviamo al weekend, per questo weekend vi prometto un occhio particolare, come sempre sulle cose che succederanno in Serie A, parlerò anche di Premier League, parlerò di Liga perché è un weekend strano, non giocano nel Real Madrid, nel Barcellona, doveva esserci il classico, ma è stato rinviato al 18 dicembre con la guerra fra Federazione e la Liga di Tebas, ci sono tante cose di cui parlare, per cui ci vedremo spesso in questi giorni qui sul nostro canale, io vi aspetto sempre.